Si è resa necessaria la riapertura della terapia intensiva Covid al quarto piano dell'ospedale Sant'Elia perché un paziente aveva necessità di assistenza intensiva a livello cardiaco e di cure particolari, tanto che i cardiologi hanno preferito mantenere il paziente a Caltanissetta. Una circostanza dettata dunque dall'eccezionalità del caso. Molti cittadini hanno chiesto come mai la terapia intensiva Covid non fosse stata riaperta prima e tanti pazienti erano stati inviati in altre sedi quali Ribero Palermo. Su questo punto il direttore sanitario dell'ospedale Nisseno Benedetto Trobia ha risposto che si tratta di questioni di opportunità perché alla terapia intensiva Covid va assegnata parte del personale in servizio negli altri reparti e indipendentemente dal numero dei pazienti è necessario destinare a un reparto almeno cinque medici, sei infermieri e sei operatori. Così facendo si sarebbe rischiato di diminuire anche gli interventi nel blocco operatorio. Il direttore Trobia ha concluso che il trasferimento in terapia intensiva Covid già aperto e funzionante in altre sedi non è una mancanza verso i pazienti ma un modo per garantire a questi ultimi in ogni caso le migliori cure. La scorsa settimana ha riaperto la terapia intensiva per pazienti affetti da Covid, un paziente che necessitava di ricovero in UTIC, terapia intensiva cardiologica, è stato ricoverato. Ad oggi abbiamo un unico paziente, la terapia intensiva era stata chiusa diversi mesi a dietro e se non erro nel mese di marzo del 2022, ad oggi è riaperta con un unico paziente ricoverato sotto leggi da dei colleghi cardiologi.